Io sono Soruvelma, già più di 20 anni che stavo nella vita religiosa Per questo, l'ultimo capitolo generale Veramente non ho pensato che uscirà Però comunque abbiamo il Santissimo che è esposto ogni giorno L'ho affidato a lui il risultato di questo capitolo Comunque la nuova madre generale del suo consiglio È una nuova sfida di questa nuova generazione Perché? Perché entrano neomadre generale Alcune dei consiglieri anche sono nuove Però anche diciamo, alcune non sono esperte Però tutte le cose si imparano E io affido questa nuova generazione Di questi nuovi capitoli Al Signore affinché possa compiere la missione Che il Signore ha affidato in questi sei anni Non per fare la nostra volontà Ma essere docile Cioè, questo è un dono grande nello Spirito Santo Essere docile, prego, per tutti i membri Per poter compiere la volontà di Dio All'interno di questi doni Che sarà una grande missione Buon lavoro a tutti quanti Buon lavoro a tutti